ne parlo in picciolito perchè era troppo, troppo grande che un fulmine non è facile, ma un figlio ma questo è scemo, piglia per fuoco d'accusi ma non è stato proprio da per quanto è avesso la sua vita? ... ... ... ... ... ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ma donna ma che c'è sta una tempesta magnetica guarda bestiale eh buon atto buon atto buon atto